Le commissioni regionali Sanità e Bilancio danno il via libera ai piani di rientro dal disavanzo finanziario presentati dalle quattro ASL della Regione Abruzzo. Sui singoli strumenti di riequilibrio finanziario la votazione è arrivata a maggioranza. I piani di rientro sono stati analizzati singolarmente e su ognuno sono state decise delle prescrizioni precise che le commissioni hanno trasmesso all'Aggiunta regionale abruzzese. In particolare le commissioni chiedono all'Aggiunta di monitorare se ci saranno sforamenti superiori al 20% del disavanzo dichiarato da ciascuna ASL e nel caso di valutare quelle che vengono descritte come opportune iniziative nei confronti delle governance delle aziende sanitarie locali. Come si accennava i piani di rientro sono stati votati a maggioranza, favorevoli gli esponenti di centrodestra che hanno messo in luce come sia stato fatto un ottimo lavoro di approfondimento e confronto mai fatto prima in passato. I suggerimenti e i consigli trasmessi alla Giunta è stato poi spiegato come possano dare un contributo per migliorare i livelli di assistenza e la compatibilità economico-finanziaria. Di tutt'altro tenore la visione dell'opposizione con il patto per l'Abruzzo che ha assunto una posizione di decisa contrarietà ai documenti per il contenimento del deficit in sanità. Una contrarietà spiega il patto per l'Abruzzo dovuto al fatto che i piani per coprire una parte del disavanzo andranno a prevedere taglie a medicinali e prestazioni, l'eventualità di accorpamenti dei reparti ed anche possibili blocchi del turnover per gli operatori sanitari. Per le componenti di opposizione in Regione Abruzzo in definitiva si tratta di correttivi definiti invotabili perché vanno a riversare sulle spalle dei cittadini la copertura dei costi della sanità.